Abbiamo fatto più che bene a dire dei no a qualcuno che si proponeva per le nostre liste, il nostro movimento e le nostre candidature offrendo voti e sostegno e diciamo che la cronaca di oggi ci dice che abbiamo fatto bene a dire alcuni no. Che Luca si era proposto a voi? Quando io in campagna elettorale ho detto abbiamo detto di no a tanti portatori di voti, l'ho detto ben sapendo che i voti me li voglio meritare uno per uno a testa alta. Poi non faccio giudice, non faccio l'avvocato, auguro le migliori fortune a chi ha problemi giudiziari. Era uno di quelli che si era proposto a cui abbiamo detto no grazie. Spero che tutti, ovunque, destra, sinistra, 5 Stelle, chiunque faccia estrema attenzione a chiunque candidi e si voglia candidare. Grazie.